Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consigliato appuntamento con il Tg10, l'apertura del nostro telegiornale dedicata ai liberi consorsi dei comuni. Ieri importante seduta all'Ars alla quale hanno presenziato i componenti di Gelensis Populus. Sentiamo. C'erano anche i componenti del comitato spontaneo Gelensis Populus ieri all'assemblea regionale siciliana. Si è parlato di liberi consorsi dei comuni, l'iter per il passaggio del comune di Gela nell'ambito dell'area metropolitana di Catania appare ancora a lungo e complicato. Ieri è stata una giornata molto intensa. È partita con un nostro sit-in dinanzi a Palazzo d'Orlean, cioè la sede della Presidenza della Regione. Dopodiché al momento dell'inizio dei lavori d'aula ci siamo spostati a Sala d'Ercole per seguire i lavori d'aula. Ieri al primo punto dell'ordine del giorno c'era la votazione in ordine al DDL 1070. Eravamo gli unici presenti in aula. Il dibattito è stato serrato e alla fine si è deciso per proporre degli emendamenti relativamente alla riscrittura della legge. entro la serata di oggi. Alleggiava un'area favorevole a questo trasferimento o no? Cioè che area tira la Regione? Vari deputati. Erano tutti assolutamente concordi nel fatto che la volontà popolare delle comunità che avevano scelto il passaggio ad un altro libero consorzio o nel nostro specifico caso all'area metropolitana di Catania doveva andare assolutamente rispettato. Il governo regionale era rappresentato da due assessori, dall'assessore Lantieri e dall'assessore Baccei. Chiaramente erano molto preoccupati della situazione e anche loro si auspicavano che l'approvazione avvenisse quanto più in fretta possibile. Però certamente alle parole e alla preoccupazione non stanno seguendo i fatti. Perché ricordiamo che il passaggio effettivo di Gela, Niscemi, Piazza Armerina e Licodio Ubea si concretizzerà solo allorquando arriverà in Aula il DDL di Giunta, non il DDL della Commissione Affari Istituzionali, ma il DDL di Giunta, presieduta dall'Onorevole Crocetta, che è quello che chiuderà e sancirà l'effettivo passaggio ridisegnando i confini territoriali. Adesso ascoltiamo che cosa pensano sul passaggio di Gela all'area metropolitana di Catania alcuni deputati regionali. Abbiamo raccolto le loro dichiarazioni. Oggi la norma che abbiamo approvato precedentemente impone al governo di presentare un altro disegno di legge sulla ridefinizione dei confini territoriali. Per cui Gela, Niscemi, Piazza Armerina, ma anche Licodio Ubea hanno svolto e effettuato legittimamente un referendum. Un referendum che ha visto esprimersi liberamente e legittimamente i cittadini dei vari quattro comuni e in questo senso noi dovremmo dare seguito a tutto ciò. Il Presidente Crocetta abbia il coraggio di portare in Aula questo disegno di legge, di impulso governativo. Poi sarà l'Aula, sarà la maggioranza a dire se lo boccia o se lo vuole approvare. Però il fatto che il Presidente Crocetta rimanga ancora inerte, questa è una gravissima omissione politica che mortifica ancora una volta i comuni di Gela, quelli di Piazza Armerina, Niscemi e anche Licodio Ubea. Noi abbiamo sempre sostenuto che i comuni sono liberi di potersi aggregare ai consorzi o alle aree metropolitane. Questa era l'intento della legge sul riordino delle province. Quindi le comunità si autodeterminano attraverso il referendum popolare che fra l'altro sono stati fatti e la maggioranza dei cittadini di quella comunità decide. Certo è che questa è una svolta epocale che purtroppo dovrebbe avere alla guida una persona autorevole. Oggi invece non abbiamo alla guida nessuno. Questo è un momento importante perché penso sia la volta definitiva in cui questa legge verrà votata e finalmente mettiamo fine ad una riforma che ha avuto tre tempi di gestazione troppo lunghi. Va rispettata la volontà popolare. Nella legge già esistente, che è la legge 15 del 2015, erano fissate delle procedure e dei percorsi che Gela, Niscemi e Piazza Armerina hanno rispettato esprimendo la volontà di aderire alla città metropolitana. Questo ulteriore disegno di legge non riguarda quelle parti già consolidate e acquisite. Quindi per quanto mi riguarda non è in discussione l'ingresso di queste città nell'area metropolitana di Catania. Incidente stradale questa mattina sotto il temporale sulla strada Gela Licata all'altezza del Bivio per Falconara. Sono stati due camion a scontrarsi, a rimanere seriamente feriti, sono i conducenti dei due mezzi pesanti. Uno è stato trasferito all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela, il secondo a Licata sul posto vigili del fuoco, polizia e ambulanze. Vertice ieri a Palermo, a Palazzo d'Orleans, per discutere della realizzazione di una stazione di rifornimento GNL particolare in questo servizio. Si è discusso dell'opportunità di realizzare una stazione di rifornimento di gas naturale liquefatto sul Mediterraneo ieri a Palermo. All'incontro istituzionale hanno partecipato i vertici della regione siciliana, del comune di Gela e dell'Eni. Tra gli argomenti affrontati è anche la questione degli oneri di compensazione. Il vice sindaco di Gela, Simone Siciliano. Si prova a trovare un accordo tra regione, comune, quindi amministrazione comunale ed Eni per proseguire con le due fasi che sono necessarie e imprescindibili per realizzare la stazione di rifornimento GNL. Queste fasi in cosa consistono? Consistono fondamentalmente nel creare la domanda, cioè consolidare la domanda oltre a quella che ha già valutato Eni. Ad esempio la regione proverà a coinvolgere la flotta peschereccia di Mazzara per provare a capire se un refitting navale per i pescherecci possa permettere di garantire una quota di mercato rilevante per Eni e sostenibile per i pescherecci del Mediterraneo. D'altra parte l'amministrazione ha già lavorato da diverse settimane con contatti con operatori del settore per consolidare nuove quote di mercato, il tutto per cercare di giustificare un investimento che la comunità europea ritiene tra le primarie fonte alternative per la transizione dai combustibili fossili di origine classica a quelli più sostenibili come l'uso del metano che sono a basse emissioni di CO2. Si è cominciato a discutere le tipologie di opere, le competenze di Eni, cosa la regione e l'amministrazione ritengono prioritario. È chiaro che a questo incontro seguirà, almeno per quello che riguarda l'amministrazione, a breve, quindi entro prossima settimana, un incontro con i rappresentanti del Consiglio Comunale, dei capigruppi del Consiglio Comunale per identificare le priorità sui progetti da realizzare oltre a quelle che già l'amministrazione ha messo in una lista, quindi in aggiunta a questi per appunto trovare il modo di far ricadere sul territorio l'investimento, questo investimento di 32 milioni di euro che darebbero una boccata d'ossigeno notevole al territorio. Il sindaco del Comune di Gela, come capofila del distretto sociosanitario che comprende anche Butera, Mazzarino e Niscemi, chiederà agli altri primi cittadini di istituire il tavolo di lavoro sul welfare pubblico, previsto da un decreto regionale dello scorso anno e quanto ha annunciato Domenico Messinese nel corso di un incontro che si è svolto ieri pomeriggio al Comune con i sindacati dei pensionati, alla presenza del vice sindaco Simone Siciliano e dell'assessore ai servizi sociali Licia Abela. Il coordinamento avrà funzioni di indirizzo e monitoraggio su base distrettuale, coinvolgerà anche l'azienda sanitaria provinciale, verrà inoltre controllata l'attuazione di tutti gli interventi afferenti al complesso delle politiche sociali e socio-assistenziali. L'organismo si occuperà anche del piano di zone, di un protocollo d'intesa sui piani di azione per la coesione. Sul PAC ha relazionato il responsabile funzionario del tavolo Europa, Tonino Collura. Il piano è stato approvato e è in fase di finanziamento per quanto riguarda il secondo riparto. È stata celebrata nei locali della sede centrale dell'Istituto Comprensivo Giovanni Verga diretto da Viviana Aldisio la giornata dell'intercultura. Notevoli messaggi che hanno rappresentato il filo conduttore delle attività svolte a partire dalle 9 del mattino e fino alle 6 del pomeriggio nella prima giornata di primavera. No ad ogni forma di discriminazione, stereotipi e pregiudizio, sia alla convivenza, alla solidarietà, all'accoglienza, alla valorizzazione delle diversità. L'obiettivo della giornata che viene celebrata ogni anno è quello di condividere la scoperta delle affinità e punti di contatto tra le diverse culture nella prospettiva di una coscienza interculturale. Alla giornata un importante contributo è stato fornito dall'Istituto Alberghiero di Gela. Gli studenti dell'Istituto Professionale hanno allestito infatti tavoli colmi di prelibati piatti tipici dei diversi paesi del mondo per sottolineare come anche il cibo racconta la cultura e le tradizioni dei popoli. Le attività svolte hanno visto impegnati gli alunni in varie rappresentazioni musicali e teatrali, esibizioni canore in italiano, inglese e francese, coreografie e letture espressive di favole etniche, interpretazioni di dialoghi e poesie ad ambientazioni etniche. Sono stati inoltre proiettati filmati per celebrare la ricchezza delle diversità come patrimonio dell'umanità da tutelare e valorizzare. Puntata speciale questa settimana per Agorà che in via del tutto eccezionale in concomitanza con le festività pasquali non andrà in onda di venerdì come nel palinsesto ordinario di Agorà ma domani. Appuntamento dunque con una puntata che tratterà un tema che è stato al centro dell'attenzione di un intero territorio e sul quale si erano appuntate moltissime speranze, cioè il progetto del più grande parco agrofotovoltaico d'Europa denominato il Ciliegino e portato avanti dall'Agroverde. A tre anni dalla sua inaugurazione in Pompamagna non c'è nulla di concreto se non le macerie di una vasta area agricola. Ci fermiamo, c'è la pubblicità. Torniamo tra poco, restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Il Movimento Giovanile San Francesco in occasione delle festività di Pasqua, conclusione delle attività previste per il tempo di Quaresima 2016, organizza per domani una colletta alimentare al fine di aiutare i soggetti indigenti. I ragazzi del Movimento Giovanile stazioneranno presse quattro supermercati che aderiscono all'iniziativa Punto Vigas, Via San Valentino, Supermercato Crai, Via Pozzillo, Supermercato Mio, Piazza Salandra, Eurospin, Via Butera. L'Aias di Gelo organizza per domani dalle 11 alle 13 un pranzo di beneficenza pasquale nella struttura di Borgo Manfre. Commensali, famiglie bisognose della città sono stati segnalati dalle varie parrocchie e saranno serviti a tavola dal personale sociosanitario che opera nella struttura. Adesso ci occupiamo di sport, c'è il calcio, il Gela è a un passo dalla Serie D, manca poco per festeggiare, sentiamo. Ci siamo quasi, manca pochissimo, la Serie D aspetta il Gela, aspetta una grande squadra con un passato glorioso che ripartendo dai campi impolverati della Sicilia ha saputo riappropriarsi della scena. Si è partiti dalle categorie inferiori, giocando in paesi che neanche il navigatore satellitare installato sulle auto sono riusciti a trovare. Ma è proprio da quei paesini che il Gela ha costruito piano piano la sua scalata. Adesso è in eccellenza, ma tra poco si ritroverà nel massimo campionato dilettantistico. La squadra biancazzurra, che nelle ultime cinque partite ha conquistato altrettante vittorie, comanda la gradutoria ed ha un vantaggio di cinque lunghezze sulla sua diretta inseguitrice, la San Cataltese. Bisogna riconoscere i meriti alla formazione di Marce No, che non ha mai mollato, ma sulla sua strada ha trovato un Gela di un altro pianeta. E se proprio il Gela è in cima, un motivo ci sarà. Perché i biancazzurri, da quando hanno conquistato la vetta dopo una rincorsa senza precedenti, non hanno mai mollato. Anzi, se ce ne fosse bisogno, hanno dimostrato una compattezza che non ha eguali. Il team gelese riduce da ben 18 risultati utili consecutivi. Se non è un record, poco ci manca. In tempi non sospetti, ad inizio campionato, gli intenditori di calcio, lo avevano detto, e il Gela, la squadra, da battere. Dopo un periodo di crisi iniziale, con l'esonero del tecnico Simone Pardo ed il successivo arrivo di Brucculeri, le cose sono cambiate decisamente. C'è stata qualche battuta a vuoto, se vogliamo fisiologica, ma i biancazzurri si sono immediatamente ripresi e le avversarie di turno hanno dovuto alzare bandiera bianca. Adesso il campionato serverà un turno di riposo per le festività pasquali. Si riprenderà domenica 3 aprile ed in quell'occasione Nassi e compagni giocheranno in casa contro il Castelbuono. La San Cataldese, invece, sarà impegnata in trasferta in casa della Derelitta Libertas. Se il Gela dovesse vincere e Nisseni dovessero pareggiare, sarebbe promozione diretta. Aspettiamo ancora un po' e poi si potrà brindare. Un'altra intensa esperienza è stata vissuta dagli atleti dell'Associazione Sportiva Orizzonte Gela, presieduta da Natale Salucci. Sentiamo di cosa si tratta in questo servizio. C'erano anche gli atleti dell'Associazione Sportiva Gelese Orizzonte al Liceo Classico Giovanni Meli di Palermo per la giornata mondiale delle persone con la sindrome di Down per raccontare le loro esperienze e le loro emozioni. Attraverso i racconti dei protagonisti nella tappa Special Sport Day di Palermo si è voluto dimostrare che è possibile spezzare i pregiudizi nei confronti dei soggetti disabili. Moltissimi gli atleti gelesi pluripremiati che hanno conquistato negli anni medaglie in diverse competizioni nazionali ed internazionali che hanno potuto interagire con gli studenti del Liceo Classico del capoluogo regionale. I nostri campioni erano accompagnati dai volontari Silvana Palumbo, Gianfranco Cassarino e Laura Salucci. Le esperienze raccontate dai nostri atleti, ha dichiarato il presidente dell'Associazione Orizzonte Natale Salucci, hanno entusiasmato gli studenti con la speranza che queste iniziative possano contribuire a cambiare atteggiamento nei confronti delle persone con disabilità. Il programma di Special Olympics, continua Salucci, ha dimostrato che ciò è possibile attraverso lo sport per raggiungere l'ambito obiettivo della completa inclusione sociale. C'è la pagina dello spettacolo, è previsto per domani alle 21 al Teatro Eschilo di Gera, lo spettacolo The Robert Seceres Show. Si tratta di uno spettacolo di improvvisazione teatrale. Il costo del biglietto unico è di 10 euro, ridotto 8 euro. Per informazioni bisognerà rivolgersi al bottiglino dalle 17 alle 20. Ci sono anche dei riferimenti telefonici 0 933 911 892 oppure 345 5880 580. E da giovedì 24, cioè da domani, al Cineteatro Antidoto di Macchitella a Gela, sarà proiettato il film La macchinazione che ha ucciso Pasolini. Sono tre gli orari di rotazione della pellicola, ve li ricordiamo, 17 e 30, 19 e 30, 21 e 30. Con l'informazione cinematografica è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito fin qui, vi ricordiamo che servizi, notizie e approfondimenti sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it Vi ricordiamo inoltre che il nostro televideo è sempre aggiornato. Arrivederci. Grazie a tutti.